Il segreto anticipazioni 22 marzo 2019, Gonzalo uccide Francesca. Nella puntata del segreto di Verdi 22 marzo 2019, donna Francesca viene lasciata in custodia a Fernando, che non può fare nulla per impedire che il suo rivale Gonzalo spari alla Montenegro, uccidendola a sangue freddo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16,40 su Canale 5. Il matrimonio di Antolina ha portato gli inquilini della casona ad allontanarsi dalla villa. A casa rimane solo Fernando, a cui viene affidata Francesca, ancora non in grado di intendere e volere. Gonzalo fa irruzione nella casona in questa puntata del segreto del 22 marzo 2019. Raimundo lasciò Francesca alle cure di Fernando per raggiungere la chiesa, dove si celebrano le nozze di Antolina e Ause. Il Mesie si trova quindi solo ad accudire la Montenegro, ancora in ferma e non ancora in stato semivegetativo. All'improvviso si troverà davanti un volto a lui tristemente conosciuto. Si tratta di Gonzalo Valbuena, il figlio di Pepa, tornato a Penteviei po' per prendersi la sua vendetta contro la terribile matrona. Fernando e il Valbuena sono antichi rivali in amore, si sono infatti contesi l'amore di Maria, l'amata nipote di Raimundo ed ex moglie del Mesie. Gonzalo uccide Francesca. Gli intenti di Gonzalo sono molto chiari. Fernando non può fare nulla per impedire che il suo antico nemico punti la pistola contro Francesca e le spari uccidendola a sangue freddo. In lui non c'è solo desiderio di vendetta ma c'è anche la volontà di mettere le mani sul patrimonio della Montenegro, che spetta alla sua famiglia, a lui e a Maria, di diritto. Sarà davvero la fine di Francesca o Gonzalo nasconde un piano?